Assessore, oggi parliamo di ricerca e innovazione. Quali opportunità di sviluppo per la Regione Abruzzo? Noi come Regione abbiamo scommesso tanto sui nostri centri di ricerca, nonostante il momento difficile, nonostante il taglio dei trasferimenti che abbiamo avuto al Governo centrale, noi continuiamo a mantenere in bidi i nostri centri di ricerca, perché riteniamo che la nostra agricoltura debba continuare ad essere una agricoltura di avanguardia. E qui abbiamo necessità di un aggiornamento continuo, soprattutto dobbiamo dare ai nostri agricoltori la possibilità di ragionare a 360 gradi. In questo momento, peraltro, c'è anche questa green di cui tutti quanti parlano e quindi credo che giustamente dobbiamo attrezzarci a sfidare i mercati, non solo quelli nazionali, ma anche quelli internazionali.